Oroscopo del giorno. Giovedì, 16 agosto, 2018. Ariete. Amore. Amore, in questa giornata potreste approfittare del minor numero di impegni per dedicarvi di più ad una programmazione delle cose da fare. L'amore procede tranquillo. Se siete singole e volete conoscere nuove persone non avete che da schioccare le dita. Lavoro, riflettete su ciò che non vi sta bene e riuscirete ad elaborare una svolta. Con l'opposizione di Giove non è facile trovare soluzioni. Gemelli. Amore, non si può escludere che qualcuno di voi oggi si senta giù di corda, ma per fortuna Marte non sarà più in opposizione nel vostro segno. Oggi sarà la giornata giusta per confrontarvi in amore. Migliorano le cose per i single, oggi ci sono novità per tutti. Lavoro, qualcuno riceverà buone notizie sul fronte lavorativo, meglio prendere ciò che di buono offre la vita. Cancro. Amore, giornata caratterizzata da una buona luna. Se dovete affrontare discussioni pesanti o se qualcuno vi si oppone è meglio parlare adesso e non rimandare le discussioni a domenica. Grandi prospettive nella vita privata dei cuori solitari, forse non sarete più soli. Lavoro, ci sono cose che possono provocare anche qualche lite sul lavoro. Nonostante siete vincenti, qualcuno potrebbe cercare di sminuirvi. Leone. Amore, giornata strepitosa, le rosè alle stelle e le incomprensioni con il partner sono diminuite. Tra tante tenerezze riuscirete a far dimenticare qualche vostra mancanza. Per i single sarà una giornata piacevole e ricca di novità, ottimi incontri in serata. Lavoro, la giornata si rivelerà importante sul piano finanziario, oggi ci saranno ottimi guadagni che vi faranno piacere. Vergine. Amore, da oggi Marte torna in aspetto positivo, qualcuno riscoprirà la voglia di amare e sarà più propenso a lasciarsi andare. Non siate troppo diffidenti nei confronti degli altri. I single dovranno rimandare un incontro importante a causa di un contrattempo. Lavoro, buone le prospettive professionali, sono in arrivo nuove sorprese e contratti di lavoro vantaggiosi. Bilancia. Amore, prima di arrivare a fare polemiche per qualcosa che non ha fondamento aprite gli occhi. Non riversate in amore la rabbia che avete con qualcun altro. I single faticheranno ad imporre la loro voce e qualcuno potrà fraintendere alcune frasi non chiare. Lavoro, in questo periodo siete piuttosto nervosi, magari un affare non è andato in porto o un rifiuto vi stanno avvelenando la vita. Scorpione. Amore, giornata interessante grazie alla luna in buon aspetto e Marte che sta per iniziare un transito davvero positivo per voi. Troverete soluzioni a problemi che sembravano impossibili da praticare. Successo anche in amore per i cuori solitari. Lavoro, oggi sarà importante lavorare sulle cose che potete fare. Chi ha una attività in proprio potrebbe avere qualche soddisfazione in più. Sagittario. Amore, giornata sicuramente frenetica ma ciò non toglie che state vivendo una fase di rilancio. Sarete spinti a parlare in amore o a confrontarvi, perché il cielo è davvero magico per voi. Se siete single e siete rimasti fermi da tempo potrete portare a casa tante conquiste. Capricorno. Lavoro, oggi dovrete fare attenzione ai rapporti professionali. Certi accordi potranno non perfezionarsi adesso. Acquario. Amore, oggi potranno crescere le possibilità di poter trovare lamore se siete singolo o di viverlo in modo più spensierato se state vivendo un rapporto solido. La giornata vi invita a vivere le relazioni in modo molto più spontaneo. Mercurio e Venere sono dalla vostra parte. Lavoro, qualcuno vi potrebbe fare un'allettante proposta di lavoro, ma evitate di lasciare il certo per l'incerto. Amore, con la presenza della luna nel vostro segno, questa giornata appare davvero interessante. Tra poco anche Marte non sarà più contrario e quindi avrete via libera nelle relazioni e negli incontri. Addirittura chi è single potrebbe avere più soluzioni. Lavoro, l'aspetto positivo degli astri potrebbe agevolarvi dal punto di vista finanziario. Oroscopo importante anche per chi deve superare prove o esami. Se il video ti è piaciuto metti mi piace, e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Grazie per la visione!